ciao sono Renato io mi occupo di analisi dati e marketing e mi fa piacere lasciare una recensione diciamo per questo nuovo corso spettacolare corso di Big Luca Info Marketing per Babbuini a chi serve e a chi non serve io vi dico la verità appena ho come dire scartato questo regalo perché avevo già comprato i corsi di Dan e Big ha voluto regalarlo ho capito che all'interno di questo pacchetto c'è un immenso valore mi chiedo come Big Luca perché Big Luca abbia voglia di venderlo a quest'offerta lancio forse vuole vincere un premio Nobel per la bontà penso questo corso che prosegue quello che avevo già imparato in guerra psicologica contiene veramente dei valori che non sono imparare a fare un videocorso vi spiega veramente come impostare il vostro business come impostare le vostre offerte come gestire con il cliente le verità che sono messe dentro questo corso vanno molto al di là di quello che si può imparare in corsi normali non è un corso come dire tecnico quello dei clic 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 per fare un qualche cosa quello lo trovate come una parte ma il vero valore farvi ragionare nell'impostare il vostro business non è un corso che serve solamente a chi vuole fare videocorsi per assurdo a me non interessa fare videocorsi anche se sono docenti data driven marketing e mi basterebbe digitalizzare le mie lezioni ma c'è un vero valore dentro che mi permette di affrontare la nuova economia diciamo l'economia post virus quindi è un corso che io dico consiglio praticamente a tutti tutti quelli che sono liberi professionisti tutti quelli che sono consulenti che hanno un qualche cosa come dire da dare vari clienti a chi non lo consiglio ai miei concorrenti non guardate non guardate è inutile che impariate quello che faccio io il come faccio offerte che mi porta a casa i clienti a prezzi superiori alle vostre offerte non lo consiglio ai miei clienti per lo meno perché dovete imparare per come vado a fare delle offerte cosa ci metto dentro quali sono i segreti che ci sono dietro e a chi non lo consiglio non lo consiglio a chi ha problemi come dire di sentirsi in debito aspettate aspettate che scada l'offerta che il valore di questo corso vada perlomeno 5.000 euro perché vi giuro anche semplicemente i contratti che sono dentro gli avvocati quando non sono fatto fare il contratto mi è costato più di tutto il corso quindi se voi prendete adesso questo corso vi sentirete un po come come dei ladri vi sentirete in debito esattamente come mi sono sentito in debito io appena ho preso guerra psicologica un quarto d'ora dopo il lancio a 1.000 euro ho dovuto comprare dopo poco un altro corso perché mi sentivo veramente in debito e così sarà anche per questo corso sarò sincero mi è stato regalato dopo aver comprato quelli di dan e dovrò comprarne un altro per sdebitarmi spero veramente che tutti voi possiate capire il valore che viene dato perché i corsi big spiegano le cose come nessun altro e che dire grazie big per questo grandissimo corso grazie manuel per avermi illustrato come i corsi di dan potevano essere la scelta giusta e quindi avermi fatto trovare questo splendido regalo in un natale estivo diciamo grazie a tutti